In acqua 5 l'italiano Davide Engel In acqua 5 l'italiano Davide Engel In acqua 5 l'italiano Davide Engel Buona partenza del nostro Engel in acqua 5 Ora in testa con Michuda e Raber Italiano Italia in testa Poi Cecoslovacchia 5, 3, 4, 6 Latvia e Australia To the late 3, Czech Republic per l'ultimo 100 metri, czech repubblica, italy, latvia, vicuda czech repubblica numero 3, italy, numero 5, latvia, 4 e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info gara 203, quinta batteria del capo 1 junior, ultima batteria e poi ci saranno le tre semifinali della categoria mix, l'ultimo hit e poi tre semifinali della categoria mix. www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti.